amici del grande calcio bentornati su senza giri di parole io sono biazzacu e io tatsuna in questo video faremo il post partita delle quattro partite di oggi quindi galles iran aiutami galles iran katar senegal olanda e qua ecuator terra usi bravo bravo vedi che stai attento mi raccomando iscrivetevi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che escono su questo canale su instagram ci state seguendo ma io non lo so ma quante volte lo dobbiamo ripetere inizio video sto fatto mica seguono incredibile incredibile andiamo a a parlare di galles iran la prima partita di oggi si sfidavano la diciannovissima del ranking fifa contro la ventissima iniziere dicendo che altri due infortunati bello sta mantenendo una media questo mondiale che è un spettacolo di infortuni però va bene accettiamo i poteri forti vogliono questo e quindi accettiamo come lo fanno le squadre i giocatori è una partita che devo dire ha visto un galles cercare di fare la partita nel senso della per quanto riguarda il possesso palla voleva impostare il galles il ritmo del match invece l'iran fin dall'inizio è sempre stato un po più difendo e riparto difendo e riparto gli hanno anche annullato un gol all'iran nel primo tempo comunque tutto sommato fino all'espulsione del portiere del galles c'era anche un certo equilibrio che secondo me pendeva un pochino sempre a favore dell'iran però poi quando è stato espulso il giocatore hanno giocato con la superiorità numerica l'iran ha iniziato a fare molto più molte più azioni a rendersi più volte pericolosa sempre con qualche squillo del galles con gang in dieci uomini qualcosina l'ha fatta e poi nei tempi di recupero al novantottesimo e cento unesimo 2 a 0 c'è una partita che over 1 e mezzo ormai era era praticamente un'utopia in due minuti due gol assolutamente non sapevo che avessero messo i tempi supplementari durante i gironi è stata una sorpresa bello però devo dire a partire scherzi mi ha fatto piacere vedere questa partita perché seppur non bellissima dal punto di vista tecnico ed è incredibile a dirsi perché ti ripeto sia l'iran sia il galles i giocatori tecnici ce li avrebbero però partite molto più fisiche che altro ha fatto piacere perché i giocatori dell'iran se vabbè sappiamo tutti la storia d'amore ultimamente tra i tifosi di calcio e questi giocatori tema che su questo canale non affrontiamo più di tanto perché ci sembra inutile devo dire si è visto che loro sono scesi in campo con una facoltà mentale diversa rispetto a quelli del galles che hanno cercato ma senza quella intensità emotiva che ci hanno messo i giocatori dell'iran che davvero in questo caso hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo vittoria meritata e mi dispiace un po per il galles vittoria meritata pure secondo me poi c'è stata la seconda gara catar senegal e qui io direi soprattutto nel primo tempo abbiamo nuovamente visto che il catar ha proprio sbagliato non solo a livello tattico ma anche a livello di atteggiamento il modo in cui dovevano asprontare questo mondiale e si è visto nel secondo tempo secondo me che primo tempo la stessa identica partita che hanno fatto contro l'ecuador una squadra così prudente passiva che facevano errori banali troppo troppo irruenti troppi troppo confusionari con poche iniziative il senegal nel primo tempo ovviamente ha avuto di più il pallino del gioco e alla fine poi trova pure il gol nel secondo tempo invece quando poi arriva il 2 a 0 io l'ho vista la reazione del catar che ha detto oh ma stiamo uscendo fuori dal mondiale senza aver segnato nemmeno un gol se non sbaglio il primo tiro del catar nel mondiale in due partite era arrivato nel secondo tempo tipo settantesimo e questo è veramente imbarazzante e lì poi hanno sono riusciti pure a trovare il gol perché hanno iniziato a macinare ad essere più coraggiosi a fare un accenno di pressing è vero che il senegal è calato è vero che il senegal è calato però se avessero giocato così fin dall'inizio forse sarebbero uscite a testa alta così e poi brutto senegal 3 a 1 alla fine fa pure dopo il 2 a 1 del catar mette proprio la firma e la ciliegina sulla torta sulla partita sui tre punti e con questa vittoria il senegal si rilancia per anche la lotta al primo posto secondo me perché se olanda ecuador che dovrebbe essere la prossima partita no la prossima partita in olanda sene no olanda catar e no e no e allora no e allora no perché olanda catar non solo l'olanda proprio li devasta li apre a metà e quindi allora no allora però se la gioca con l'equador a sto punto per la per la qualificazione quindi un dentro fuori la prossima partita sì 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 certo quello è ma questa è la prima è la prima grande scommessa che ho perso del mondiale perché per ora sta andando bene bene le scommesse su iran e giappone vediamo quando era la fine questa qui del catar l'avevo proprio cannata però meritatamente perché il catar non me l'aspettavo devo dire a livello di atteggiamento me l'aspettavo così sbagliata come squadra poi magari la facciamo la reaction alle nostre alle nostre prediction del mondiale sì sarebbe una cosa interessante poi c'è stato olanda ecuador e questa io non l'ho vista quindi ti lascio proprio il giudizio solo a te vai sono molto arrabbiato ragazzi molto arrabbiato perché l'olanda per l'ennesima volta fa tanto mette tanta carne a cuocere però non c'è non c'è sostanza cioè cominciano alla grandissima e fanno anche fanno anche un bel gol bellissimo il gol di gacpo poi si spengono letteralmente quasi come se avessero detto vabbè tanto il massimo che può succedere che ci parigiano la prossima abbiamo il catar arrivederci grazie ma non è soltanto una sensazione cioè proprio in tutto a un certo punto l'olanda smette di giocare e lascia il palino del gioco all'equador senza un chiaro motivo e quindi la partita va così va con l'equador che comincia a giocare di più e meglio dell'olanda l'olanda cerca di tenere il possesso ma in una maniera molto sterile potremmo addirittura definirla melina in alcune parti del gioco e mi dispiace perché c'è tutti sti giocatori peraltro con una panchina allucinante stasera il l'olanda non ha messo in campo né devrai né del it né dei pai cioè da dovuti mettere nel secondo tempo alcuni fa proprio strano vuol dire l'olanda in queste prime partite perché mi ricordo che anche nel successo della scorsa partita ne abbiamo parlato un po male perché comunque soft come squadra stranamente nonostante il talento assurdo che abbia non è stata neanche presunzione questa volta non è stata presunzione nella scorsa ne abbiamo parlato abbiamo detto presunzione ragazzi invece in questo caso è stato ovvio rinunciatarismo e mi dispiace parecchio perché meritavano di più secondo me hanno pure sottovalutato l'equador e comunque delle cose interessanti ormai in due partite le ha fatte vedere come quindi sarà una bella sfida con il senegal probabilmente non sarà così tanto scomodo scontata la vittoria del senegal per quanto mi riguarda ma guarda l'unica cosa che ti dico è tu sai bene che io parto sempre da un discorso di c'è anche l'avversario però devo ammettere che stasera non abbiamo visto qualcosa di particolarmente brillante da parte del dell'equador semplicemente l'equador ha avuto una strada piuttosto spianata e non vorrei parlarne troppo male però secondo il fatto che l'equador abbia non si è riuscito neanche ad approfittarne bene e anche display del fatto che alla fine non hanno molto su cui puntare soprattutto è scassato valencia quindi non lo so se ecco come andranno le prossime esatto e andiamo a inghilterra stati uniti una 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 partita che secondo me delle cose le ha dette come prima cosa l'inghilterra diciamo che ha giocato un po sapendo che molto probabilmente la qualificazione quasi archiviata però questo non va a togliere i meriti agli stati uniti che secondo me hanno dato una prova di forza clamorosa cioè già con il galle nessuno si avvede bene la partita sa perfettamente che per come aveva giocato gli stati uniti se non avessero regalato quel calcio di rigore a bail facevano tre punti oggi poi ti fanno questa prestazione con l'inghilterra e comunque da tante persone quasi additata come una delle favorite che possono vincere la competizione viene dal 6 a 2 con l'iran gli stati uniti questa partita meritava di vincerla meritava di vincerla l'inghilterra è stata proprio graziata e fortunata questa partita l'inghilterra doveva perdere gli stati uniti hanno dimostrato veramente di essere una squadra che sta sfornando dei talenti interessanti e io vorrei far notare all'età media 25.5 anni della formazione che è scesa oggi in campo quindi sono anche ragazzi quindi gli stati uniti stanno costruendo una generazione interessante e si vede anche nelle partite guarda che per me dopo stasera possiamo parlare di inghilterra tranquillamente come una spagna senza alcun affiatamento composta praticamente soltanto da grandi calciatori ma che fumano una cozzaia senza alcun componimento tattico decente e si muovono letteralmente come l'istinto gli suggerisce tanto che più volte abbiamo visto alcuni giocatori pestarsi i piedi ed è anche strano alcune volte perché comunque essendo un 4 2 3 1 tendono a giocare anche larghi io vedere per esempio saga che si butta addosso a mount o bellingham che confonde la linea del pressing con rice mi è sembrato strano alcune volte sinceramente magari era una giornata storta però diciamo che l'inghilterra non ci fa una bella figura stasera aiutato forse in parte anche dal dall'entrata in campo di rushford e grillish che hanno messo un po più di sostanza perché secondo me avessero continuato come stavano facendo probabilmente la avrebbero persa perché sul finale appunto per esempio grillish e rushford hanno creato delle occasioni da gol importante importanti perdono che il gli stati uniti sono stati bravi a sventare però a quel punto diciamo che gli stati uniti hanno cominciato a temere di perderla mi ricordo un intervento di adams meraviglioso adams veramente un gran giocatore alla fine si sono accontentati si abbiamo pure scoperto i giocatori in inghilterra della della degli stati uniti che secondo me veramente tanta roba adams è nominato e giocare nel leeds che già in premier league ormai è diventato titolare del leeds quindi sta facendo delle prestazioni anche lì a poi titolare sia nel leeds che negli stati uniti cioè scusami capitano 23 anni cioè una giocatore che veramente c'ha tanto potenziale ma io pure questo robinson l'ho visto interessante è calato nel secondo tempo ma ha fatto delle giocate cioè questo corre corre proprio robinson ma lo stesso wea che comunque a tratti si accende a tratti si spegne ma c'ha talento c'ha velocità c'ha atletismo c'ha tecnica ma pure musa musa non male cioè ce ne ha parecchio se consideriamo mckenny dest comunque zimmerman che c'è ti fa quella cagata nella scorsa partita ma poi sbaglia veramente poco sa sia difendere che impostare cioè considerando poi quelli che sono andati alla panchina ci sta un giovanni reina che è benissimo però avrà un futuro questa nazionale e poi il numero 10 il numero 10 della nazionale pulisic che ormai secondo me dovrebbe darsi la possibilità di essere ritoriale in qualche altra squadra perché secondo me è proprio spiegato nel celsi è come capita spesso a molti esterni si condivido tutto quello che hai detto ti vorrei saltare una postilla hanno citato tutti il fatto che musa c'ha un passato in italia e siccome l'hai citato però ti dico anche una cosa musa calcisticamente è cresciuto nel giorgione in che senza in umbria no una squadra una squadra di treviso chiudiamo questa chiosa meravigliosa e mo questa già sta situazione il girone nell'inghilterra si fa interessante che anche la prossima partita sarà un dentro fuori iran contro stati uniti chi vincerà passerà al prossimo turno interessante interessante questo video finisce qui ragazzi fateci sapere con un commento cosa ne pensate voi di tutte queste partite e secondo voi quali squadre passeranno il turno continuate a seguirci e noi ci rivediamo in un prossimo video